Amici del piccolo magazine, siamo giunti al termine di questo bellissimo concorso e la seconda classificata di Miss Trans Estate 2021 è Sileni San Marino, complimentissimi! Grazie raga! Te l'aspettavi questo secondo posto, puntavi più in alto oppure sei soddisfatta? Sono soddisfatta perché per me comunque questo è stato un espazio, come l'ho detto prima e anche la mia risposta, dove voglio dare l'ambito e la pubblicità al mio collettivo che è stato abbastanza pieno di odio, di rincore, quindi per me questo andare avanti la mia comunità, più di essere la vincitrice o essere la seconda o la terza, io solo volevo essere qui. Come diceva Angela Bonse e nel suo discorso io non ho voluto vincere, solo ho dovuto essere qui. Certo, sicuramente questo è l'importante di partecipare a questi concorsi, ancora complimenti per la tua posizione, come l'hai vissuto il concorso in sé, ho visto che c'era dell'adrenalina ma anche dell'amicizia tra voi ragazze. Contenta, posso dire che sono molto felice perché ho conosciuto delle veli ragazze e come l'ho detto prima qualcuna doveva vincere, per me questa era una battaglia campale dove solo una poteva vincere e questo è il risultato. Complimenti ancora per questo secondo posto meritatissimo, grazie per essere stata con noi.